Bella a tutti ragazzi, coorgasmiche, sono qui con un nuovo video delle bestie nascoste, ma prima di iniziare questo episodio vorrei finalmente pubblicizzare il mio secondo canale, perché come ne avevamo parlato sulla mia pagina Facebook, e se non l'avete fatto iscrivetevi, link lo trovo in descrizione, aprirò, anzi ho già aperto un secondo canale dove principalmente tratterò videogiochi in generale, ma ancora più principalmente video di Call of Duty, che comunque è uno dei miei giochi preferiti da sempre, quindi vi invito a iscrivervi a questo canale, il link per iscrivervi lo trovate in descrizione, ma penso anche metterò un'annotazione qui, o comunque un link che vi riporta al mio canale qui, su questo video, o comunque sia sul mio canale trovate tra i canali consigliati il canale, vi invito appunto a iscrivervi, fatelo in tanti, perché vorrei aprire questa sorta di canale e fare in modo che possa pubblicare anche i miei video, soprattutto di code, ma anche di altri videogiochi, poi va bene, parleremo meglio, perché vorrei condividere anche quel tipo di esperienze videoludiche in altri ambiti, quindi iscrivetevi al canale. Comunque, cominciamo subito con i tre giocatori di oggi, facciamo brevemente, parliamo un po' del primo giocatore, cioè del giocatore bronzo, si tratta del coreano Choi Jung Tae. Andiamo subito a vederci qualche clip di questo coreano, non mi ricordo che squadra gioca, però vabbè, l'ho utilizzato come COC, in realtà il suo ruolo originario è CC, è un giocatore formidabile, perché sostanzialmente ha un tiro della madonna, è vero che ha una velocità molto bassa, molto molto bassa, quindi delle volte fate anche un po' fatica, soprattutto in questo gioco dove la velocità è praticamente tutto, però da parte sua vi dico tutti i pro che secondo me ci sono in questo giocatore. Intanto il prezzo, perché io l'ho pagato 200 crediti e sono uno scherzo per quello che ti dà in game, se lo sapete usare, sapete un po' accontentarvi della sua velocità, vi accorgerete di quanto è bestiale questo giocatore, giocatore che era bestiale anche l'anno scorso. Un contro che ho notato è sicuramente le due stelle abilità, scusate, e tre stelle piede debole potrebbero essere anche quattro volendo, però vabbè. Comunque questi sono sostanzialmente i contro, mentre i pro, come ho detto prima, il prezzo, poi il tiro, ragazzi ha un tiro che è qualcosa di mostruoso, un passaggio delizioso, davvero un giocatore formidabilissimo, perché vi risolve le partite con un tiro, praticamente, perché è la sua forse abilità migliore. Detto questo, raga, passiamo al giocatore argento, si tratta di un giocatore che io ho provato spesso nel corso degli anni di FIFA, sto parlando di Zakaria Labiad. Vediamoci qualche clip, allora, Labiad è un marocchino che gioca nel Vitesse, dovrebbe essere di proprietà del Chelsea, ed è un giocatore che anche lui non è velocissimo, non ha una velocità eccelsa, ma se saputo usare è devastante. Vi dico solo che, ragazzi, in tre partite mi ha fatto 11 gol, è qualcosa di mostruoso. La cosa più forte, secondo me, di questo giocatore è senza dubbio il suo tiro. Ha un tiro dalla distanza, come Choi Yun Tae, praticamente hanno lo stesso tiro, che è veramente formidabile, ma la cosa migliore, che lo rende ancora più forte di Choi Yun Tae, secondo me, è che ha 5 stelle piede debole, quindi tirate di destra e di sinistro, non vi fa alcuna differenza. Lui è come ruolo C o C, ma io l'ho utilizzato come AT in un falso 9, ed è davvero fortissimo, ragazzi. Provatelo in un 4-3-3-5 tra parentesi, quello appunto con il falso 9, perché rende tantissimo, è sempre in posizione, sempre pronto a fare gol. C'è da dire che non ha una finalizzazione altissima, e questo un po' lo penalizza, però se mi ha fatto 11 gol in tre partite, vuol dire che è comunque forte e garantito. Se avesse qualcosa di più di finalizzazione, farebbe tipo 50 gol a partita. Un giocatore sempre in posizione, tiro mostruoso, anche al volo, è forte, fortissimo nelle punizioni, come da adesso Choi Yun Tae, come avete visto. Quindi a me questo tipo di giocatori piacciono tantissimo, anche perché poi ha 4 stelle abilità, perché quando tirano da fuori, a me piace un casino fare i long shot, questo sto un po' imparando, che non è facilissimo, ma è davvero stupendo. Ha anche un ottimo work rate, per cui tutto a vantaggio suo, ecco. Comunque, questo era il giocatore argento di oggi, mentre catapultiamoci a parlare del giocatore oro di oggi, e ragazzi, questo è un giocatore che vi cambierà la vita. Sto parlando di Gakpe. Andiamoci a vedere qualche clip. Gakpe gioca in Ligan, non so se l'avete mai provato. Se l'avete provato, mi saprete dire che veramente merita tantissimo. È un giocatore che ha in comune agli altri due giocatori il tiro dalla distanza. Ha un tiro dalla distanza altissimo. E per un giocatore valutato 75, comunque per un'ala, è veramente ottimo, perché guardate che tiri sublimi che fa. È un giocatore meraviglioso. Questo ha un long shot che può tirare da 40 metri e fare gol. Davvero delizioso questo giocatore. È velocissimo, ha un'agilità pazzesca, un destro micidiale, un tiro comunque anche dall'area, come potete vedere da questo clip. Davvero efficacissimo. Finalizzazione che è tipo 69, ma sembra molto, ma molto di più, ve lo garantisco. È sempre in posizione, sempre pronto per andare in porta e fare gol. Ha anche un buon dribbling, se per quello l'unica pecca di questo giocatore è sicuramente le sue tre stelle abilità. Se ne avesse quattro, praticamente sarebbe il Cristiano Ronaldo della Liga. Perché davvero io mi sono... Guardate qui, guardate che gol. Cioè, è stupendo. Quindi ragazzi, provatelo. Costa 650 crediti, 700 crediti. Ma anche se costasse 10.000 crediti, li varrebbe comunque. Perché davvero vi risolve le partite. Voi lo prendete, partite in avanti, non vi ferma assolutamente nessuno. Questo ve lo garantisco. Ed è forte anche negli assist. Come potete vedere qui, ha fatto due assist veramente molto belli. Soprattutto di cross, che non è facile. Segnare di cross, guardate qui. Parte da centrocampo e va al diritto in porta a fare gol. Ragazzi, questi sono i tre giocatori che vi consiglio oggi. Fatemi sapere se li proverete. Fatemi sapere se li avete provati e come vi siete trovati. Ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace. A 400 mi piace uscirà un nuovo video. Come al solito vi invito a scrivermi nei commenti qualche bestia nascosta che voi avete provato e che mi volete consigliare. Io le proverò e nel caso le farò nel prossimo video. Ovviamente ho tanti giocatori in coda, devo un po' vedere. Vi invito, come ho detto all'inizio del video, a iscrivervi al mio secondo canale, che si chiama Argasmic Plays. Così uscirà a breve il mio primo video di Call of Duty, che sarà un gameplay, un commentary, così. E iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga!